Nel turno infrasettimanale la sveva palacanestro Lucera ha sconfitto per 55 a 71 il frantoio Muraglia Barletta. Nel primo quarto entrambe le formazioni partono forte rispondendo colpo su colpo e chiudendo la frazione in parità sul 16 a 16. Il secondo quarto vede i viaggianti cercare l'allungo prima di raggiungere il riposo lungo. Il risultato è di 31 a 39. Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa cercano di diminuire lo svantaggio ma i downi non cedono terreno e si va verso l'ultimo quarto sul 46 a 56. Nell'ultima frazione con una difesa aggressiva i bianco celesti mettono finalmente la freccia e la partita si conclude con il risultato di 55 a 71. Settima vittoria consecutiva della sveva palacanestro che domenica 11 dicembre affronterà in casa la Seabasket Brindisi.